avvocato neo cinquantenne per le donne non si dice l'età ma negli uomini non è non è come dire cattiva abitudine ovviamente insomma dicevamo avvocato nato negli stati uniti vissuto fino alle 13 anni ora un ruolo un politico importante ma al tempo stesso stimolante rilanciare il percorso di forza italia una fase di grande cambiamento di transizione non soltanto a livello locale ma ovviamente a livello nazionale parliamo di politica di territorio ma anche di professione forense nell'appuntamento di oggi di 45 giri con un ospite al quale diamo il benvenuto l'avvocato vincente fanini ben ben arrivato grazie grazie diciamo nella premessa avvocato e politico in questo momento scendiamo della questione forense parleremo più in avanti questo percorso in natura politica diciamo nelle premesse forse italia sta vivendo una fase di cambiamento di transizione assolutamente e lei ha un ruolo importante quello insomma di coordinatore provinciale degli azzurri sì questo ruolo ecco io l'ho accettato con grande orgoglio non me l'aspettavo onestamente fui appunto contattato dagli amici dai quadri dirigenti di forza italia abruzzo di forza italia teramo e mi era stato detto che appunto in una ottica di rilancio in una fase nuova c'era la necessità di dare un segnale e quindi era stata individuata questa diciamo questa mia figura che ripeto mi ha reso molto molto orgoglioso non me l'aspettavo e ho accettato di buon grado perché appunto tutti gli amici erano concordi nell'affidarmi questo compito delicato difficile in un momento particolare me ne rendo conto sono ben consapevole però come tutte le cose ho deciso di assumermi questo impegno e di portarlo avanti con grande determinazione con grande fermezza con grande entusiasmo con grande convinzione ripeto sono ben consapevole delle difficoltà forza italia sta attraversando un momento difficile non solo soprattutto a livello nazionale anche a livello locale a livello abruzzese però ricorderei un attimino un anno e mezzo fa alle ultime elezioni regionali forza italia ha avuto il 18 per cento dei consensi da parte degli abruzzesi non poca cosa se pensiamo alle odierne proiezioni dei sondaggi dove ci attestano intorno al 10 12 per cento 13 9 e mezzo a secondo appunto delle delle società di sondaggi quindi è una situazione particolare ma posso rassicurare che è un'esperienza esaltante entusiasmante sto incontrando tantissima gente tantissime persone tantissimi amici che percepisco questa voglia di tornare ad essere attivi di tornare ad essere operativi ecco facendoci forza di questo noi siamo operativi siamo sul territorio siamo insieme ogni giorno della settimana cerchiamo di fare del nostro meglio ci confrontiamo con le persone ci confrontiamo con i cittadini ci confrontiamo con gli amministratori locali che sono assolutamente fondamentali oggi in questo periodo in questo momento non è assolutamente semplice fare l'amministratore perché la gente purtroppo è sfiduciata nella politica in generale e quindi noi abbiamo una responsabilità perché dobbiamo dare appunto un segnale un segnale nuovo un segnale di cambiamento ecco io vorrei portare avanti questo tipo di impostazione l'appuntamento di atri della scorsa settimana ha rappresentato una sorta di spartiacque sotto questo punto di vista iniziativa importante una convention con una grande partecipazione poi dopo ascolteremo anche l'intervento telefonico di berlusconi è stato lei dei commenti del post ha detto ripartiamo da questa iniziativa è stato un evento fantastico è stato frutto di un durissimo lavoro di squadra tant'è che molti hanno dato un contributo importante molte persone si sono adoperate fattivamente i miei collaboratori più stretti i miei vice in particolare Ivan Costantini di Giulianova Giacomo D'Ignazio di Teramo tante persone si sono rese disponibili ripeto con convinzione non sono stati diciamo coinvolti ed obbligati noi eravamo convinti di fare una grande cosa e ci siamo riusciti sono molto soddisfatto l'esito di questo evento è stato ecco è stato un evento un incontro ai tempi del pdl quando appunto ecco ogni ogni incontro ogni evento del pdl era c'era un mare di gente tanta gente entusiasta ecco questa questo incontro che abbiamo fatto ad altri c'erano circa 700 persone e le persone avevano sentivano voglia di 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 andare avanti di proseguire su un nuovo percorso ecco questo noi abbiamo tracciato un nuovo percorso e abbiamo dato quella positività quel sano ottimismo di cui noi godiamo e siamo riusciti io ritengo a comunicare a trasmettere questo nostro messaggio tant'è che dopo altri abbiamo fatto una bellissima cena di forza italia a Giulianova erano presenti 170 persone è stata una serata magnifica quindi devo dire che poi ecco la telefonata del presidente berlusconi è stata la ciliegina facciamo facciamo così la ascoltiamo uno stralcio di questa telefonata poi rientriamo e la commentiamo certo no io non ho mi hanno passato il telefono ora senza nessun preavviso mi hanno dato anche un un altro foglio con cui sapere vedo che lì c'è il sindaco di apri che saluto il coordinatore e anche Paolo Gatti vicepresidente del consiglio regionale quindi a loro mando un saluto affettuoso e voi sapete come ti ho detto ieri che presto io essendo ritornato in campo verrò a trovarvi un certo cosa vi aspettate da me questa sera se no vi saluti perché voi sapete che mancando di sintesi quando comincio a parlare della situazione italiana vi tengo al telefono un'ora e mezza comunque sinteticamente vi posso dire che siamo davvero in una emergenza democratica che siamo governati da qualcuno che con solo un voto al suo partito nemmeno a lui di un italiano avendo diritto al voto su sei non solo governa ma cambia anche la legge elettorale e cambia la costituzione in modo da poter arrivare ad avere una sola camera che fa le leggi dove un solo partito possa avere il 55% dei parlamentari quindi la maggioranza assoluta e in modo da che questo solo partito possa avere un solo padrone quindi credo che dobbiamo guardare a questa situazione con grande preoccupazione per le pulsioni autoritarie che essa contiene e che dobbiamo tutti ritirarci sulle maniche per andare a convincere soprattutto quei 26 milioni di italiani che hanno deciso di non andare a votare io credo che con la mia riscesa in campo con la mia presenza in televisione io potrò portare presto Porta Italia da quello che ha adesso al 12% verso quel 25% che il voto è ancora Panini passano gli anni ma la tempra di Berlusconi resta tale il presidente Berlusconi è eccezionale trasmette una carica delle motivazioni io poi condivido appieno le sue considerazioni per noi era di fondamentale importanza appunto che facesse questa telefonata io avevo avuto rassicurazione in tal senso la sera prima che appunto avrebbe telefonato ed è stato grandioso come il suo solito ecco una notazione l'evento di Atri è stato un evento importante ed è stato noi abbiamo avuto la fortuna di avere una eccezionale ospitalità da parte del sindaco Gabriele Astolfi da parte di tutti gli amministratori della maggioranza del comune di Atri che sono stati tutti eccezionali perché tutti si sono impegnati e quindi mi rifaccio al discorso che facevo prima il lavoro di squadra ecco noi abbiamo una grande squadra posso rassicurare tutti i telespettatori tutti gli amici, gli elettori di Forza Italia Forza Italia a Teramo è fortissima abbiamo tanti elementi di altissimo profilo basti pensare ecco cito solo gli esponenti di rilievo che hanno partecipato ecco in prima linea al nostro incontro di Atri e mi riferisco al presidente Gianni Chiodi che insomma ha uno spessore politico molto molto elevato al vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti che onestamente è l'esempio della grande operatività che la politica, di cui la politica ha bisogno non è discutibile che l'operatività di Paolo Gatti ormai nota e più il suo impegno fattivo, quotidiano ogni giorno della settimana le capacità e le competenze del presidente Chiodi onestamente ecco è intervenuto il sindaco di Teramo Maurizio Brucchi un grande amministratore un grande decisionista in una città difficile in un momento anche difficile però ripeto abbiamo noi delle eccellenze abbiamo degli uomini e delle donne ecco molte volte alcuni amici mi dicono avvocato però siete un po' carenti diciamo nel campo femminile non è assolutamente vero abbiamo delle ragazze che sono assai motivate che vogliono dare un contributo attivo che sono impegnate e che sicuramente potranno dare di più e stiamo appunto cercando ancora volti nuovi ecco questo in questo momento è il nostro obiettivo chiaramente siamo sul territorio per individuare gente nuova nuove figure nuovi professionisti ma non solo professionisti perché la politica non è fatta solo di professionisti è come la società il presidente Berlusconi ama spesso citare la società civile ecco nella società civile io ritengo che ci siano tantissimi elementi importanti bisogna andarli a trovare bisogna convincerli bisogna che ecco molte persone ritrovino quelle motivazioni che magari un tempo si trovavano con più facilità e oggi ecco si stentano tantino l'abbiamo detto in premessa il suo ruolo cadi in un momento molto particolare ricostruire un percorso politico ma Forza Italia può tornare ad essere non soltanto in Italia ma anche nei nostri territori la casa del centro-destra in questo momento in cui ci sono tanti rivoli in cui lei faceva riferimento al PDL in questo momento è tutto molto frammentato Certo Forza Italia sarà sicuramente è al momento e continuerà ad esserlo e si riafforzerà certamente nella coalizione di centro-destra è il partito guida noi collaboriamo con i nostri alleati fattivamente un confronto leale onesto con gli amici di Fratelli d'Italia con gli amici del nuovo centro-destra che segnalerei nel territorio terramano ed abruzzese sono con il centro-destra e quindi con Forza Italia non sono al governo mi vengono in mente degli esempi da fare che sono molto eloquenti il sindaco di Chieti l'amico Umberto Di Primio è un esponente di spicco del nuovo centro-destra ma governa con una maggioranza di centro-destra insieme a Forza Italia ma il nuovo centro-destra di Teramo è al comune di Teramo in una maggioranza di centro-destra con Forza Italia è all'opposizione alla regione Abruzzo con il capogruppo l'amico Giorgio D'Ignazio quindi insomma c'è una collaborazione così come con gli amici di Fratelli d'Italia il mio corrispondente l'amico Fabrizio Fornacciari di Roseto l'amico avvocato Giandonato Morra il collega Giandonato con il quale siamo amici da oltre vent'anni c'è una grande disponibilità e soprattutto ecco c'è una grande come dire sintonia perché siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda siamo tutte persone per bene siamo tutte persone oneste siamo tutte persone preparate che lavorano sul territorio con impegno con sacrificio poi ci sono le liste civiche ci sono tante liste civiche noi ci confrontiamo anche con i civici mi vengono in mente diverse liste civiche non solo nel comune di Teramo ma anche nei piccoli paesi perché insomma come lei ben sa nei territori i partiti magari possono essere meno visibili e confrontandosi con le liste civiche che invece hanno diciamo una risonanza maggiore sul territorio quindi da parte nostra c'è massima come dire apertura noi siamo e vogliamo essere inclusivi assolutamente sappiamo che bisogna avere una predisposizione alla dialogo non trascurando le sensibilità di ognuno perché non ce lo dobbiamo nascondere ognuno di noi ha una sua sensibilità e questa è la caratteristica non solo della politica è la caratteristica della società è la caratteristica diciamo del mondo del vivere civile quotidiano ogni giorno anche in un condominio insomma per dire e quindi siamo ben consapevoli di questi fattori di questi elementi e non intendiamo trascurare nulla lei faceva riferimento in passato in precedenza al discorso di Berlusconi lei è un forzista della prima ora della prima ora sì bene sono fiero ed orgoglioso io sono stato eletto per la prima volta nel mio comune di San Deggio della Librata nel 1995 ho fatto il consigliere comunale per 14 anni sono stato capogruppo di Forza Italia sono stato membro del coordinamento provinciale di Forza Italia all'epoca quando era coordinatore provinciale il senatore Rocco Salini sono stato sempre impegnato in Forza Italia diciamo che la mia azione politica è stata sempre un po' nelle retrovie ecco non sono stato mai un front office man sono stato sempre uno del backstage diciamo così o meglio nelle retrovie con umiltà con modestia ho fatto sempre il mio dovere in silenzio non ho mai dato come dire non ho mai dato fastidio fra virgolette vorrei dire non ho fatto mai richieste particolari quindi anche perché insomma ero molto preso come lo sono tuttora del mio lavoro della mia professione che amo tantissimo che mi dà grandi soddisfazioni nonostante anche qui le grandi difficoltà che ci sono però ecco diciamo che sono stato sempre assai impegnato e ho dato sempre il mio contributo e anche per questo motivo probabilmente sono stato coinvolto in questa nuova avventura che mi ha e mi entusiasma tantissimo che mi ripeto mi dà quella quella carica per cercare di fare qualcosa di buono di nuovo con serietà con efficienza ripeto nonostante le difficoltà del momento che ben conosco però ecco una delle una delle cose più belle della politica sono le persone quindi io ho avuto la fortuna in questi anni di conoscere tantissima gente di avere costruire rapporti di amicizia con tanta gente che mi ha dato ecco grandi soddisfazioni grandi come dire sono stato fortunato perché ho potuto allargare di molto il mio bagaglio culturale ecco questo sì l'appuntamento di Atria abbiamo detto ha rappresentato come dire un punto di partenza ci sono sicuramente delle sfide oltre quelle che abbiamo analizzato la volontà ovviamente di ricostruire un rapporto con il territorio con le persone ma anche appuntamenti amministrativi importanti nel prossimo anno faceva un accenno di Teramo in questo momento c'è una crisi politica tra virgolette nata nelle ultime ore e poi c'è un appuntamento importante il comune nel provincia di Teramo più importante di San Dralvotto Roseto nel 2016 difatti noi adesso concentreremo la nostra attenzione sugli appuntamenti amministrativi del 2016 mi ha fatto immensamente piacere ecco questa è un'annotazione che faccio ben volentieri la maggioranza del comune di Roseto era presente in blocco al nostro incontro il sindaco Pavone è una persona squisita io confido in una sua riconferma indiscutibilmente o così come ho detto a quattro occhi al sindaco Ennio Pavone posso dirlo tranquillissimamente anche qui io darò il massimo di me stesso perché appunto l'appuntamento elettorale di Roseto sia vincente siamo convinti di avere anche a Roseto una grande squadra composta da ottimi elementi ripeto l'amministrazione di Roseto era presente in blocco al nostro evento ad Atri hanno fatto di tutto per esserci nonostante che avessero anche degli impegni istituzionali quel giorno e ebbi delle rassicurazioni appunto dal sindaco Pavone questa cosa mi ha fatto immensamente piacere perché la presenza è un fatto molto importante in un appuntamento importante visto che si vota a Roseto che è la seconda città dopo il comune di Teramo è stato anche lì un segnale importante sul comune di Teramo sicuramente in questi giorni ci sarà un confronto pacato leale onesto nel weekend sono previsti diversi incontri ci sarà un tavolo politico formale ripeto il sindaco Maurizio Brucchi è un grande amministratore una grande persona una persona che io stimo una persona che ritengo sieda al posto giusto in un momento particolare di sicuro ci sono anche lì tante sensibilità che non vanno trascurate evidentemente prenderemo in mano la situazione il sindaco prenderà in mano la situazione con il nostro supporto chiaramente e sono convinto che diciamo l'allarme fra virgolette rientrerà anche perché abbiamo degli interlocutori che sono persone intelligenti sono persone perbene ripeto gli amici di Fratelli d'Italia con i quali io ho grandi rapporti non solo politici ma professionali e personali quindi insomma sussistono tutte le condizioni perché appunto si faccia una una buona si risolva bene questa situazione un po' un attimino un po' ingarbugliata lo diceva prima insomma amministrare in questo momento è difficile anche per queste dinamiche che investono la sfera prettamente politica certamente sì ma guardi noi io onestamente sono un grande sono convinto che la politica bisogna fare una politica seria una politica del territorio sul territorio per il territorio ok noi siamo in Val Vibrata per noi ecco l'ospedale Val Vibrata lo dico a chiare lettere non si tocca facciamo così Fanimi ci fermiamo un attimo lei stava introducendo un tema molto interessante ci fermiamo un attimo diamo la linea alla regia per la pubblicità e ci ritroviamo tra qualche istante benissimo di nuovo assieme con 45 giri con l'avvocato Vincent Fanini prima della pubblicità stavamo introducendo stava introducendo un altro tema che è quello della Val Vibrata varie problematiche lei stava puntando l'indice sul discorso della sanità tornato ad essere molto d'attualità gioco di parole in queste settimane sicuramente sì ecco l'ospedale Val Vibrata ripeto ancora una volta non si tocca noi difenderemo a denti stretti l'ospedale Val Vibrata perché è un bene prezioso per la cittadinanza che vive la Val Vibrata non solo per i valvibratiani ma anche per tutto l'indotto per il periodo estivo per tutti i turisti che poi vivono qui nel nostro fantastico territorio l'ospedale Val Vibrata è un nosocomio d'eccellenza a mio modesto parere io stesso ho avuto diciamo esperienze personali quindi ho potuto toccare con mano anzi tra l'altro le dico che prima di venire qui a questo appuntamento vengo proprio dall'ospedale ok e io ritengo che l'ospedale Val Vibrata vada salvaguardato vada potenziato e non come sento dire depotenziato addirittura sento dire che pare che ci sia diciamo la possibilità la probabilità negativissima che il servizio del pronto soccorso passi dall'H24 all'H12 questa è una cosa impossibile inammissibile io rivolgo un appello ai miei amici amministratori del partito democratico perché è intollerabile che si possa pensare di mettere mano negativamente sull'ospedale Val Vibrata faccio solo un piccolo inciso e è noto a tutti che la provincia di Teramo è l'unica provincia delle quattro abruzzesi dove non vi sono presenti sul territorio la sanità privata quindi le cliniche private quindi ritengo che la politica debba maggiormente attenzionare la sanità teramana la sanità pubblica teramana appunto perché nel Teramano non ci sono cliniche private non è pensabile assolutissimamente che si possano addirittura chiudere dei riparti o ridurre delle prestazioni di servizio presso l'ospedale Val Vibrata non è assolutamente ammissibile anzi faccio notare che ci sono nel corso del governo Chiodi ricorderà anche lei anni addietro l'ospedale Val Vibrata era semideserta anche lì eravamo tra virgolette al punto di non ritorno la chiusura la chiusura era ecco le porte se lei va la mattina come sicuramente avrà avuto modo di andare a farsi l'analisi o di fare un controllo una visita i parcheggi sono strapieni sono stati allargati c'è appunto una vitalità presso l'ospedale Val Vibrata io conosco personalmente molte persone colleghi amici dell'Ascolano e del San Merettese che addirittura vengono a farsi curare a Santomero perché appunto ci sono dei reparti ci sono delle eccellenze c'è un rapporto umano diverso che non va trascurato perché appunto l'utente il paziente ha bisogno anche di quel calore umano non solo del servizio sanitario ma anche del calore umano che i nostri brillanti operatori riescono a dare con simpatia ed è una cosa alla quale molti fanno caso quindi non solo garantire dei servizi ma anche le persone che sono coinvolte vanno attenzionate ecco l'ospedale Val Vibrata dicevo prima a Sant'Egid la Vibrata e a Villa Rosa ci sono dei punti dei centri particolari dove appunto medici dell'ospedale fanno visite quindi ecco l'amministrazione Chiodi a suo tempo diede un segnale molto importante per il nostro territorio importantissimo e io ritengo che i cittadini della Val Vibrata debbano abbiano il diritto a poter godere ancora di servizi di qualità lei fa queste riflessioni anche alla luce del fatto insomma che qualche settimana fa ha preso parte al Consiglio Comunale Aperto a Termo laddove insomma si parlava di sanità e c'era l'assessore Paolucci lei ha fatto nelle ore immediatamente successive delle riflessioni ponendo anche degli interrogativi sono rimasto molto deluso dall'assessore Paolucci perché non è entrato nei dettagli è stato ecco da buon politico è stato si è mantenuto sul vago ad oggi ancora non si hanno notizie certe su quelle che sono le intenzioni appunto da parte del Governo regionale D'Alfonso in tema di sanità anche se il tema è di grande attualità e di grande rilevanza mi sarei aspettato una presa di posizione decisa visto che appunto l'assessore partecipava ad un consiglio comunale straordinario dopo i numeri e l'esposizione del sindaco Brucchi sinceramente ecco non so se tutti sanno la popolazione della provincia di Teramo è superiore di qualche migliaia di unità rispetto alla provincia dell'Aquila ok e noi riceviamo somme di gran lunga inferiori rispetto alla sanità aquilana dove sono presenti numerose cliniche se non vado errato il sindaco Brucchi parlava di 24-25 milioni di euro ecco questo mi sembra un nonsense inglese cioè una cosa impossibile non è ammissibile una cosa del genere nonostante che l'ospedale San Salvatore sia un grosso nosocomio importante ci mancherebbe altro un territorio importante i problemi che ci sono stati il terremoto ma ci sono tante cliniche anche importanti nell'Aquilano ecco noi a Teramo non abbiamo le cliniche noi abbiamo l'ospedale di Teramo Mazzini viene da fare una riflessione poi la interrompo un attimo non ci sono cliniche private in questo territorio salvo poi essere al di là del tronto esatto ma questo è un problema ed è un problema serio perché noi abbiamo il dovere di combattere la mobilità passiva non è possibile che i nostri concittadini conterrani vadano nel Marchigiano per farsi assistere per diciamo godere di servizi sanitari quando abbiamo le strutture abbiamo ecco l'ospedale di Sant'Omero è in centro nevralgico ripeto siamo a 10 minuti dal Badriatica un quarto d'ora da Martinsicuro un quarto d'ora da Tortoreto siamo a 5 minuti da San Degidale di Prata insomma le prestazioni sono più che buone l'attività chirurgica dell'ospedale di Sant'Omero è noto a molti insomma che è quasi raddoppiata rispetto agli anni addietro ma non solo mi vengono in mente la ginecologia insomma dove ci sono dei medici brillantissimi la radiologia dove appunto c'è un personale molto molto operativo il pronto soccorso c'è tanti reparti tante persone che si conoscono quindi tanta gente che conosciamo direttamente perché abbiamo avuto magari un'esperienza sappiamo della loro professionalità della loro educazione della loro ecco del loro carattere umano la connotazione umana che è anche quella importante io ritengo onestamente che chi amministra il nostro territorio debba assolutamente tenere in considerazione come priorità la sanità nel nostro territorio dell'Avvibrato quelle che sono le sue perplessità i suoi interrogativi i suoi appelli che lancia attraverso le telecamere sono anche come dire dei dubbi che emergono per quanto riguarda l'Unione dei Comuni di recente insomma i sindaci hanno approvato un ordine del giorno hanno chiesto un incontro ufficiale lo stesso Paolucci guardiamoci questo servizio e poi lo commentiamo assieme il piano il piano di riorganizzazione della sanità abruzzese con il rischio paventato da taluni di un declassamento dell'ospedale di Santomero preoccupa i sindaci dell'Unione dei Comuni della Val Vibrata per questo motivo i primi cittadini dell'Unione hanno delegato il presidente Leandro Pollastrelli nel chiedere un incontro in forma ufficiale all'assessore regionale della sanità Silvio Paolucci per discutere sul tema e avere notizie chiare sulla riorganizzazione della sanità a livello territoriale il presidente Leandro Pollastrelli fa presente infatti che le ragioni che i sindaci vogliono portare all'attenzione dell'assessore Paolucci sostanzialmente sono di carattere tecnico ed economico in Val Vibrata esiste un ospedale che negli ultimi anni ha già dato tanto per il risanamento della sanità abruzzese con tagli di posti letto e riorganizzazione di reparti che hanno confermato la qualità e l'economicità del servizio ai cittadini non solo in Val Vibrata ma in tutta la provincia di Teramo allo stato attuale prosegue Pollastrelli la struttura sanitaria di Santomero è perfettamente idonea ad accogliere reparti d'eccellenza nonché ad essere ampliata ed adeguata con dei costi minimi rispetto ad altri interventi economicamente più dispendiosi evitando dunque azioni di spreco di denaro pubblico l'attuale ubicazione baricentrica della struttura sanitaria infatti facilmente raggiungibile sia da Teramo che da altri centri abruzzese e marchigiani tramite la viabilità di raccordo facilita la fruibilità dei servizi sanitari e potrà portare ad una forte riduzione della mobilità passiva attualmente in atto con conseguenti ulteriori economie e riduzione dei costi questi sono gli argomenti che i sindaci della Val Vibrata vogliono rimarcare all'assessore Paolucci e all'intera giunta regionale riorganizzazione non significa spendere soldi pubblici per altre strutture quando quelle esistenti possono essere utilizzate con un minimo di spesa nei prossimi giorni i sindaci saranno attenti a tutte le proposte valuteranno la validità e la bontà delle stesse e si comporteranno di conseguenza con la massima lealtà e trasparenza si legge nella nota la Val Vibrata è una realtà territoriale importante e va tenuta in debita considerazione nella delibera adottata i sindaci hanno ritenuto di inviare l'atto amministrativo sia all'assessore Paolucci che al direttore regionale della AS di Teramo Fagnano e a tutti i consiglieri e assessori della provincia di Teramo Fagnani è d'accordo su questa considerazione che fanno i sindaci? sono assolutamente in linea con l'azione politica dell'Unione dei Comuni della Val Vibrata con il sindaco Pollastrelli con tutti i sindaci della Val Vibrata condivido appieno le loro preoccupazioni faccio mie le loro preoccupazioni ripeto sono assolutamente in linea è stata un'ottima iniziativa questo di assumere un provvedimento formale ufficiale da portare all'attenzione dell'assessore Paolucci ecco questo è un esempio di buona azione politica tra i tanti aspetti da chiarire e poi chiudiamo l'aspetto legato alla sanità si parla ovviamente da più parti un unico ospedale in provincia di Teramo magari uno nuovo baricentrico tra Teramo e Giulianova questa potrebbe essere una chiave di lettura a lei come l'hai non sono assolutamente d'accordo non sono assolutamente d'accordo perché penalizzerebbe il nostro territorio ritengo che la qualità dei servizi sarà di gran lunga inferiore rispetto a quella attuale a suo tempo io ricordo che durante la campagna elettorale il presidente l'allora candidato presidente Luciano D'Alfonso oggi presidente della regione addirittura prometteva la realizzazione di un ospedale nuovo a Giulianova insomma delle due luna qui penso che regni la confusione nel PD io ritengo che loro debbano prendere una decisione chiara alla luce del sole ma debbano prima parlare fra di loro per capire bene loro che cosa vogliono fare questa è una questione seria una questione assai importante non si può pensare di smantellare dei nosocomi esistenti per realizzarne uno nuovo una cosa follesca assolutamente io ritengo che si debba assolutamente potenziare l'ospedale Val Vibrata ritengo che ecco l'ospedale di Giulianova vada attenzionato seriamente ritengo che l'ospedale di Atri la chiusura del punto nascita di Atri è uno scandalo è uno scandalo faccio uso di un termine forte appunto per far capire la problematica della situazione cioè la reale situazione la chiusura del punto nascita di Atri lo ripeto è uno scandalo questo è segno di una cattiva politica di un cattivo indirizzo politico a mio modesto parere ripeto nel Terramano va ci si deve concentrare diversamente e avere una sensibilità diversa rispetto alle altre province abbiamo fatto tanti riferimenti alla Val Vibrata relativamente al discorso della sanità lei è uomo della Val Vibrata vive qui da diversi anni ricordiamo insomma è nato negli Stati Uniti ha vissuto finalità di 13 anni ma che fase viviamo in questo momento sanità a parte viviamo una fase difficile un momento difficile così come appunto a livello nazionale siamo ancora nella fase di una crisi economica duratura purtroppo ma ci sono minimi segnali di ripresa sono molto preoccupato per il mondo edilizio che dalle nostre parti è un settore trainante ma non solo il mondo edilizio il manufatturiero le grandi aziende che ci hanno resi famosi anche non solo nel resto d'Italia ma anche in Europa nel mondo ci sono grandi attività oggi ancora in essere noi abbiamo ci siamo sempre distinti per la nostra imprenditorialità noi in Val Vibrata abbiamo avuto sempre il mio padre Bonanima diceva il commercio nelle vene va bene il senso del commercio chiaramente quindi questa grande iniziativa imprenditoriale di cui noi godiamo che ci è stata magari tramandata da padre in figlio da genitori appunto a figli da nonni a figli eccetera insomma noi siamo ecco ci siamo sempre caratterizzati per questa nostra iniziativa l'economia terramana si fonda sull'economia valvibratiana non ce lo dimentichiamo questo quindi io mi auguro che vengano assunti dei provvedimenti per appunto dare una mano affinché possa ripartire un attimino il mondo dell'impresa con maggiore tranquillità perché il problema è questo l'imprenditore il cittadino qualunque ha bisogno di tranquillità ha bisogno di avere fiducia e come si fa ecco dipende dalle persone a mio modo di vedere ed è per questo che appunto Forza Italia ha bisogno di un rinnovamento di un rilancio con un radicale rinnovamento della classe dirigente un rafforzamento anche perché ripeto l'ho detto sempre in tutte le sedi non bisogna fare di tutta erba un fascio assolutamente no noi abbiamo necessariamente bisogno delle indicazioni dei consigli dei suggerimenti di persone insomma che hanno fatto politica seriamente anche magari da qualche anno però abbiamo bisogno anche di una nuova abbiamo bisogno di una nuova effervescenza abbiamo bisogno di gente operativa di gente insomma che vuole stare sul pezzo noi ci siamo sul pezzo tutti i giorni dall'impegno politico alla professione che momento sta vivendo la professione forense dal suo osservatorio insomma certo beh non le nascondo che è un momento particolare per me perché insomma sono molto molto impegnato anche nel lavoro nella professione che amo che mi ha dato sempre grandi soddisfazioni che porta avanti con onore e decoro l'avvocatura per me è tutto siedo con onore nel consiglio dell'ordine degli avvocati di Teramo da qualche anno ormai mi confronto tutti i giorni con i miei amici e colleghi con i magistrati con gli operatori giudiziari con le cancellerie con tutti perché tutti dobbiamo darci una mano insieme a favore dell'utenza a favore dei cittadini purtroppo la macchina della giustizia funziona a singhiozzo ci sono delle grandi problematiche ecco di organizzazione fortunatamente è entrato in vigore il processo telematico che ci sta dando una mano per noi insomma che facciamo un certo tipo di lavoro però ci sono tante cose da registrare tante cose da fare ancora molti anche operatori dovranno fare dei corsi di aggiornamento insomma la situazione è in evoluzione l'avvocatura è anche in difficoltà in questo momento perché purtroppo diciamo che c'è un esubero anche infatti la riflessione è proprio questa molti dicono forse in Italia sono troppi avvocati sì è vero questo è vero diciamo che la nostra è stata sempre una professione sognata dai più sempre a vita sì io ho sempre sognato di fare l'avvocato è un lavoro un mestiere che mi che mi eccita che mi che mi entusiasma che mi prende quando ci si mette a studiare un caso passano le ore e non ci se ne accorge insomma ecco ci vuole passione come in tutte le cose come in politica anche nel nostro lavoro se non se a a uno non piace ciò che fa è evidente che è difficile che lo possa far bene ecco la stessa cosa in politica noi dobbiamo riuscire a trasmettere il nostro entusiasmo la nostra passione la nostra determinazione anche nella politica e quindi in politica ritengo io che abbiamo bisogno di persone che hanno questa passione pura questo entusiasmo questo ottimismo ecco piangersi addosso è una cosa che non sopporto bisogna essere ottimisti dobbiamo guardare avanti abbiamo un dovere abbiamo delle responsabilità ecco nonostante ripeto le difficoltà così come nella vita professionale ci sono degli alti e bassi siamo molto attivi io sono molto attivo facciamo un sacco di chilometri perché insomma non frequento solo non frequentiamo solo i nostri tribunali di zona mi riferisco a Termo Ascle insomma andiamo all'Aquila a Pescara ad Ancona ecco ieri sono stato ad Ancona oggi ad Ascoli domani sto a Teramo alcuni giudici mettono le udienze anche il pomeriggio quindi insomma non è facile coniugare la vita professionale con la vita politica ma soprattutto la vita familiare come si concilia? ecco bisogna essere diciamo fortunati anche questo è chiaro che la famiglia è importantissimo è la prima cosa io sono fortunato sotto questo aspetto di sicuro la nostra presenza come mariti come padre è molto importante i ragazzi vanno seguiti le attenzioni non sono mai a sufficienza certo è che ecco avere una vita impegnata così è assorbente questo è poco ma sicuro io ieri sera non sono riuscito nemmeno a festeggiare il mio compleanno che era un traguardo anche importante che era un traguardo importante perché sì sono arrivato oggi stamattina in asco i molti amici mi hanno detto bentornato in mezzo a noi cinquantenni però insomma ecco per dire oggi ogni giorno abbiamo un sacco di cose da fare quindi dobbiamo essere organizzati ci dobbiamo organizzare dobbiamo partire presto la mattina ci alziamo presto tutte le mattine siamo convinti di fare bene anche se spesso e volentieri capita insomma di avere delle delusioni o di avere come dire dei ripensamenti sto facendo la cosa giusta oppure no però questo comunque nella natura umana insomma mi sembra che sia una cosa normale non penso di raccontare cose insomma strane è chiaro che nonostante tutto ecco noi ci mettiamo io ci metto grande impegno grazie a Vincent Fanini grazie per la sua parte di riparazione a 45 anni grazie a voi bene il tempo a nostra disposizione finisce e noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo un po' il proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti